ciao a tutti ragazzi e allora siamo entrati nel 2023 quindi anno nuovo e vita nuova e ovviamente anche setup nuovo ovviamente rispetto al vecchio video quindi al video precedente l'audio del mix amp è stato migliorato perché con dei vari accorgimenti sono riuscito appunto a capire come migliorare l'audio andiamo innanzitutto nelle impostazioni del gioco e andiamo a vedere che impostazioni utilizzare in game andiamo su impostazioni audio mix audio utilizziamo home theater come volume generale utilizziamo 100 e per quanto riguarda i volumi che ci interessano è volume effetti e volume indicatori colpi 100 e 100 per quanto riguarda invece le altre impostazioni io vi consiglio di mettere 0 su volume musica 10 volume voci e 14 volume chat vocale ma queste sono diciamo impostazioni che potete scegliere tranquillamente voi a vostro piacimento allora usciamo dal gioco abbiamo appunto astro commander center e vi consiglio di mettere appunto sul primo canale il setup che andremo a fare appunto perché quando accenderete il pc o la vostra console diciamo che subito si imposterà sul primo canale quindi non avete ogni volta bisogno di andare a modificare e cambiare i vari canali una cosa che vi posso dire che questo setup valido sia per i pc che per le console quindi andiamo a modificare appunto su impostazioni avanzate questo preset questo preset standard delle astro andremo a modificare questo adesso vi mostro i valori vi consiglio innanzitutto di innalzare i vari livelli perché altrimenti non vi farà fare alcune operazioni quindi innalzate un po' il tutto ok andiamo su frequenza la prima frequenza che andiamo a utilizzare è appunto 206 andiamo ad impostare 206 la seconda frequenza andremo ad impostare 3.205 andremo ad impostare 7.506 per quanto riguarda invece la quarta 7.805 e per quanto riguarda invece l'ultima frequenza 7.812 adesso passiamo ai livelli e allora i livelli andremo ad impostare sul primo livello meno 5 sul secondo livello andremo ad impostare più 7 sul terzo livello di nuovo meno 5 sul quarto livello andremo a mettere più 6 e sul quinto livello lasceremo appunto 1 per quanto riguarda invece la larghezza di banda andiamo a modificare queste tre larghezza di banda allora nel primo caso andremo ad impostare 0.5 nel secondo caso andremo ad impostare 0.4 e nel terzo caso 0.1 allora questo è il settaggio completo per quanto riguarda le astro quindi su astro commander center premiamo x andiamo a cambiare il nome magari andiamo a mettere warzone 2.0 e andiamo a sincronizzare sul dispositivo mi raccomando dimenticate di sincronizzare sul dispositivo altrimenti le varie modifiche non verranno fatte possiamo chiudere astro commander center andiamo a destra sul nostro volume con il tasto destro andiamo su suoni questa è un'altra cosa importantissima da fare possono farlo tutti anche coloro che non hanno le astro a 40 quindi andiamo su riproduzione andiamo a cercare il nostro dispositivo audio nel mio caso andiamo a prendere astro mix amp pro game che è appunto l'audio del gioco andiamo su proprietà andiamo su enhancement e andiamo a spuntare la voce loadness equalization spuntiamo la voce mettiamo applica ok questo è fatto un'altra cosa che dovremo andare a fare è sempre andare in basso a destra su volume andare però in questo caso su audio spaziale e andare a selezionare windows sonic per cuffie mentre nel video precedente abbiamo selezionato il dolby altmos in questo caso io l'ho provato sinceramente mi sono accorto che l'audio è troppo basso almeno con quel settaggio quindi magari ci smanetterò un po su se riuscirò a trovare il settaggio migliore magari fare un altro video riguardo per quanto riguarda invece questo settaggio io vi consiglio appunto utilizzare windows sonic per cuffie o addirittura disattivato allora le differenze sono pochissime secondo me windows sonic per cuffie è leggermente migliore rispetto al disattivato quindi ho preferito questo però io vi consiglio magari di provarli entrambi per vedere un po con quale vi trovate meglio quindi selezionate windows sonic per cuffie chiudete e l'ultima cosa da fare è appunto quella di prendere fisicamente il nostro mix amp in mano come potete notare nella parte superiore del mix amp vi sono un paio di cuffie e una stellina per quanto riguarda l'icona delle cuffie è il dolby surround quindi praticamente avrete un suono un po modificato e sinceramente magari magari sentirete i passi in modo più veloce ma la qualità o la direzione dei passi sarà peggiore rispetto magari alla stellina quindi io vi consiglio di utilizzare la stellina e la stellina è la modalità stereo la modalità stereo secondo me offre un audio più pulito quindi per quanto riguarda la direzione dei passi la sentirete sicuramente in modo migliore nulla con questo è tutto io chiedo di lasciare un like al video se vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi al canale per vedere i prossimi video e scrivetemi sotto nei commenti come vi trovate con questo è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao 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 ciao